Come è stato importante avere questa legge? Credo che debba essere migliorata e ogni rapporto internazionale come questo dell'Ocse sottolinea che un regime moderno di legislazione preventiva e repressiva contro la corruzione è una delle componenti più importanti per determinare la volontà delle imprese internazionali di investire in un determinato paese, quindi l'Italia si è messa in moto da questo punto di vista con la recente legge ma può fare di più.